mi dica che cosa sa dell'isteria niente è una sensazione melanconia stati d'ansia ninfomania frigidità una fame io non puoi do cantar ci sono molti trattamenti ma io preferisco un approccio più diretto si comincia con il dito indice che applica una leggera pressione strabiliante ho ricevuto un'offerta di lavoro dal più importante specialista in medicina femminile poverino che orrore così è perfetto dottore grazie muchas gracias non hai alcuna idea di ciò di cui una donna ha bisogno quella donna è isterica mia figlia emily dal rimball non ho dubbi che possa rivelarsi un'ottima moglie per un medico ricorda mia figlia charlotte il mio nuovo assistente attento a non ferirsi dottore molly giusto gli amici mi chiamano molly lecca lecca no no la sua mano non sembra affatto migliorata in effetti è così è faticoso dare piacere a metà delle donne di londra che manufria il mio nuovo acchiappa polvere può funzionare o davvero uno massaggio elettrico su che si fa la prova tre parossismi in cinque minuti è in atto una straordinaria rivoluzione film 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 Grazie a tutti.